Vice Presidente Mario Colaggioanni che è un mio caro amico Grazie Vittorio, abbiamo da dargli... Allora Questa è la settima tarda di uno Sì, la settima tarda Sono sette anni che Amaseno ci fa l'onore nonostante la difficoltà Voi immaginate che devono spostare non solo le persone Ma devono spostare tutto questo ambaradano di strumenti Noleggiano un fullman Il fulgone è posto Però se ha il fulgone qualche costo ce l'avrà E penso che questo sia per noi e per il festival Ma penso per tutti quanti ci credo